Sei, signori miei, il sei è garantito perché con questo sistemone voi sbancherete il super-enalotto! Alla fine del secondo millennio, l'intera nazione era contagiata da una inarrestabile epidemia. La febbre del super-enalotto. Fantozzi ne fu colpito in forma mostruosamente virulenta. Questo! Copro questo! Pira! Diventeremo reti! Diventare ricchi! Questo è il grande sogno che spinge milioni di italiani a tentare la fortuna al gioco. Ma a numeri alla mano, quanto è facile riuscire nell'impresa? Immaginate di scrivere i nomi di tutti i 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea su dei biglietti e di metterli dentro un'urna. Poi sceglietene uno a caso. La probabilità di pescare proprio il vostro nome si avvicina e supera quella di vincere al super-enalotto. Sì perché l'eventualità di indovinare l'ambita sestina è meno di 1 su 620 milioni. Qualche confronto? La probabilità di chiamare Casa Buffon facendo un numero a caso di Torino è di 1 su 10 milioni. Quella di avere una scala reale massima servita 1 su 600 mila. Altro che scaramanzia.